Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Arezzo e Valdichiana in direzione sud. Sempre in A1, per attività di ispezione all'interno delle gallerie, fino alle 20 del 30 ottobre è chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio nelle due direzioni, in alternativa per correre la A1 variante. Siamo al traffico urbano di Firenze in riferimento all'emergenza sanitaria coronavirus. A partire dal 1 novembre è sospeso l'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia della strada. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico navale, il traghetto Livorno-Capraia-Isola delle 8.30 per maltempo partirà con tre ore e mezzo di ritardo. Moversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!